Adesso facciamo un bel flash mob, ok? Vorrei dire una cosa, chi vuole parlare, chi vuole prendere la parola, visto che vedo tante realtà associative e non solo, sarebbe molto bello, me lo dice, io, mi avete visto tutti, me lo dice, vi metto in una scaletta se volete parlare, se volete dire qualunque cosa riguardo alla giornata, alla manifestazione. Nel frattempo adesso do la parola a Cristina, facciamo il flash mob, grazie.